Valorizzare i corsi d'acqua attraverso un percorso di conoscenza propedeutico alla prevenzione del rischio idrogeologico e dallo sviluppo di nuovi modelli di governance nei settori dell'agricoltura e del turismo. E' l'obiettivo dei contratti di fiume, innovativo strumento adottato anche dalla provincia di Cosenza, ente capofila del contratto di fiume Crati, cui hanno aderito 70 soggetti tra istituzioni pubbliche e aziende private. Il dossier conoscitivo del Crati è stato presentato nel corso di una conferenza stampa con la coordinatrice del progetto Paola Rizzuto ed il presidente facente funzioni della provincia, Graziano Di Natale. Sono dei contratti di coesione sociale con le amministrazioni comunali proprio per mettere in circolo le amministrazioni in quello che è il significato della salvaguardia ambientale e del rischio idrogeologico, quindi sono dei contratti che la provincia di Cosenza stilerà con le amministrazioni comunali proprio per prevenire quelle che sono le emergenze del territorio. Altrove i costi d'acqua sono delle risorse, qua spesso sono dei rischi, perché? Sono dei rischi perché non tutte le amministrazioni hanno fatto appieno il loro dovere. Oggi occorre non solo prevenire ma salvaguardare quelle che sono le risorse naturali della nostra terra. Salvatore Bruno per la C News 24.